Grazie, grazie per questa bella e lusinghiera presentazione. Mi è stato chiesto di vedere che cosa ci potesse essere nella dimensione collettiva della vita ebraica, che non dico potesse assomigliare, ma comunque che non possiamo chiamare certo sinodalità, ma comunque come dimensione collettiva. L'unica cosa che può richiamare una dimensione collettiva ovviamente nel mondo ebraico, almeno nel mondo ebraico occidentale, è la comunità, comunità che sono diverse fra loro, che hanno diverse origini, se guardiamo gli Stati Uniti, se guardiamo l'Europa, anche la Francia per esempio è diversa dall'Italia perché è passata attraverso l'esperienza napoleonica che ha creato una sorta di piramide che non esiste per esempio in Italia, dove le comunità hanno una loro autonomia e sono racchiuse nell'unione delle comunità. Ora, non esistendo come è noto alcuna separazione nel mondo ebraico fra laicato e clero, non esistendo il clero sostanzialmente, e fra chiesa e popolo, quindi la comunità è quello che richiama la dimensione collettiva. E' un'istituzione elettiva tra gli iscritti, almeno fino nell'ultimo secolo e mezzo, dopo l'emancipazione diciamo, perché precedentemente era sì formata attraverso una elezione, ma era una elezione di tipo diverso, un'elezione tra i maggiorenti, non era una cosa di tipo, come dire, adesso ha una caratterizzazione democratica che fra l'altro ha mantenuto anche nel corso del fascismo, è l'unica istituzione che è rimasta elettiva nel corso degli anni fascisti fino al 38 e quindi fino alle leggi razziste. Essa provvede a tutti i bisogni collettivi di natura sociale, di natura religiosa, di natura educativa e di natura culturale. Quindi ho inserito religiosa. Il rabbino infatti nel mondo ebraico è un funzionario della comunità, è nominato dalla comunità e in quanto tale, come nominato dalla comunità esercita la sua funzione, che come sappiamo è una funzione di guida della preghiera pubblica in sinagoga, di partecipazione ai tribunali rabbinici dove esistono e dove comunque hanno una funzione limitata riguardo soprattutto le questioni familiari, le questioni della kashrut, le questioni delle regole della vita ebraica, ma non quelle che riguardano il rapporto con la società civile non ebraica e soprattutto una funzione di insegnamento, quindi insegnamento, preghiera pubblica in sinagoga e tribunali rabbinici, giudizio, cultura e religione. La comunità è un'istituzione recente, recente si fa per dire, medievale, ma non è certamente, non è nominata nel corpo talmudico, non se ne fa nessun accenno. La chiusura del Talmud è fatta tradizionalmente risalire al 499 d.C. dell'era volgare. Le sue origini comunitarie sono totalmente diasporiche, non ha nessun rapporto con quella che era il mondo ebraico, con l'esistenza del tempio e l'esistenza del ceto societale. È totalmente diasporica e si rilacciano a tempi e modi diversi e hanno anche una notevole, come dicevo, diversificazione fra loro. Ora in rapporto con il mondo esterno, ora invece in linee di tendenza che sono interne al mondo esterno. Questo si ritrova in tutte le riflessioni che si possono fare sulle istituzioni ebraiche. Vengono dall'interno, vengono attraverso una trasformazione interna o vengono da quella che è la presenza ebraica nella diaspora, cioè come minoranza in una situazione di maggioranza che non è ebraica. Ora gli storici discutono moltissimo su questo e hanno discusso su questa questione delle origini. Non è indifferente per come si giudica la struttura, diciamo, collettiva della vita ebraica, vedere se questa ha un'origine interna o un'origine invece che si riferisce a quella che è il contesto esterno dentro la diaspora. Alcuni storici hanno sottolineato il rapporto con l'antichità e con anche dentro una diaspora, però comunque nel mondo antico. Altri invece hanno sottolineato nelle origini della comunità, soprattutto e credo che questa sia la posizione, anzi sono sicura che è la posizione dominante tra gli storici, io anche aderisco a questa posizione, hanno sottolineato il rapporto con l'esterno, per esempio in Italia con i comuni, con tutta una serie di istituzioni non ebraiche che però hanno fortemente suggestionato e forse sono anche state suggestionate da questa dimensione comunitaria. Le prime accenni di comunità, per esempio a Roma, risalgono al dodicesimo secolo e sono molto precoci in qualche modo, quindi la struttura comunitaria è così come la conosciamo ora, che si basa quindi su un'elezione molto con una rotazione anche molto rapida, molto veloce all'interno delle varie comunità. Per esempio se vediamo Roma, vediamo le comunità nel periodo fra tre e cinquecento, prima dei ghetti vediamo che questa rotazione riguarda alcuni mesi, i maggiorenti in carica restano solo alcuni mesi, ovviamente tutto cambia con l'emancipazione, con la trasformazione delle comunità, così vediamo ora. Le comunità all'interno del mondo ebraico occidentale si sono trasformate. Questa figura del rabbino, che non è clero come sappiamo, e che comunque è un'espressione della politica comunitaria, delle scelte comunitarie, che viene nominato dalla comunità, che quindi è un'istituzione se vogliamo usare questo termine che è improprio per il mondo ebraico, laica, ha avuto tutta una serie di trasformazioni. Nel periodo medievale antico, per esempio nella Germania renana, era la figura più carismatica, non c'era nessun tipo di scelta o di esame o di sottomissione a qualche autorità superiore, ma la figura più carismatica, quella che emanava le tacanotte, cioè le aggiunte alle norme, era quella che aveva più importanza. Abbiamo tutta una serie di rabbini che non hanno mai passato attraverso l'istituzione della Semihà, che è la cosiddetta ordinazione rabbinica, che invece comincia soltanto nel XIII-XIV secolo. Quindi il rabbino si istituzionalizza come figura nel XIII-XIV secolo. Fino a quel momento ha soltanto una fama particolare, un rilievo particolare, e forse possiamo aggiungere un carisma particolare all'interno delle comunità. Le comunità sono collegate fra loro molto spesso, ma non dipendono l'una dall'altra. Abbiamo per esempio nella Spagna e nella Provenza del 3-400, prima dell'espulsione, delle norme che vengono emanate all'interno delle comunità contro, per esempio, la diffusione del pensiero razionalistico maimonideo, e sul divieto di studiare la filosofia prima di una certa età, che non vengono applicate in particolare in Provenza, non vengono applicate in Spagna o viceversa. Ci sono degli scontri fra le comunità. Le comunità, sia nel Medioevo che successivamente, hanno una sorta di autonomia interna. Ci sono stati molti tentativi di allargare i legami fra le comunità, fino a creare delle istituzioni sovracomunitarie, ma sono, ne troviamo in Spagna, ne troviamo in Italia, sono particolarmente legate, direi, a momenti di crisi del mondo ebraico. Nella Spagna, dopo il 300, negli anni 30 del 400, c'è questo tentativo di stringere un legame sovracomunitario, nell'Italia in particolare, anche lì in un periodo medievale, ma sono legati a questo. In realtà le comunità hanno una notevole autonomia di gestione e di organizzazione fra loro. La semica cambia, l'istituzione rabbinica non sono forse in grado di dirlo, perché non è una mia specifica competenza, comunque ho la sensazione che non l'abbia cambiata, dalle letture che ho fatto, che non l'abbia cambiata come considerazione. Questo ovviamente cambia con l'emancipazione, con l'emancipazione degli ebrei nel XIX secolo, cambia molto radicalmente il curriculum di studi in cui si determina il rabbinato. Il rabbinato non è soltanto più un'ordinazione come nel basso Medioevo, ma viene fuori dai veri e propri collegi, collegi rabbinici, che nascono nel XIX secolo, che caratterizzano l'esperienza di, non posso dire di riforma, perché in Italia, per esempio, e ho molto presente l'Italia mentre parlo con voi, non c'è stata riforma, come sappiamo, l'Italia non ha avuto la riforma protestante, ma non ha anche avuto la riforma ebraica. La riforma nata nella Germania del XIX secolo non è penetrata che in minima parte nel mondo ebraico italiano, però nascono questi collegi rabbinici che hanno, fra l'altro, anche una funzione di adeguare alla modernità il mondo rabbinico, che già era diverso il mondo rabbinico italiano da quello che era la cultura, la trasmissione del sapere nel mondo italiano, da come era, per esempio, nella Germania, anche perché in Italia il Talmud era proibito dal Cinquecento e quindi gli studi italiani, il curriculum di studi italiani, dovette fare a meno per secoli di quello che era la base fondamentale dell'istruzione rabbinica e comunque dell'istruzione religiosa e culturale ebraica, i due termini sono strettamente legati nel mondo ebraico. Nel mondo, quindi, ci sono tutta una serie di ricurricola che vengono creati nei collegi rabbinici nell'Ottocento che prevedono lo studio delle materie laiche, diciamo, non religiose, che escono completamente fuori da quella che è la tradizione delle yeshivot nel mondo shkenazita tedesco o più tardi orientale. Nei tempi più recenti vorrei sottolineare un fatto, anche perché poi adesso ci ritorno su questo tema, che il collegio rabbinico, per esempio il collegio rabbinico di Roma, ha affiancato agli studi veri e propri rabbinici dei corsi di studi superiori che sono anche consentiti alle donne. Le donne non possono ottenere il titolo rabbinico, però hanno un titolo di insegnamento attraverso questi corsi di studi superiori che permette loro poi di insegnare e di che c'è una vera e propria creazione di un corso parallelo che in qualche modo si fonde con gli studi del collegio rabbinico per tutta una serie di materie, ma che non porta per le donne al titolo di rabbino. E questo è molto importante. Ora, un'altra cosa importante è la trasformazione che si è venuta a creare dopo l'emancipazione e soprattutto, direi, negli ultimi decenni della figura, della struttura diciamo rabbinica, cioè del mondo vero e proprio religioso rispetto a quello laico. La comunità, uso il termine laico fra virgolette, perché è anche un termine improprio in questo caso. Comunque, la comunità in quanto struttura laica ha sempre una funzione di dirigere il mondo rabbinico, ma il mondo rabbinico si è organizzato attraverso tutta una serie di istituzioni, dall'assemblea rabbinica, la consulta rabbinica che comprende i rabbini che fanno parte dell'unione delle comunità ebraiche, che in qualche modo si è sempre più diversificata e ha mantenuto e comincia a assumere una sua autonomia rispetto. Questo è un processo che in qualche modo adegua questa stretta fusione fra sfera religiosa, sfera culturale, sfera civile, che era tipica del mondo ebraico verso una differenziazione di queste due sfere. Quello di cui sto parlando è evidentemente una fotografia, diciamo così, in particolare con attenzione all'Italia, della ortodossia moderna. In Italia non c'è, ci sono pochissimi, stanno cominciando appena adesso a emergere, delle piccole comunità riformate. I conservative, che sono la forza maggiore negli Stati Uniti, non sono quasi presenti o comunque sono fusi con queste piccole sinagoge riformate e quindi questa è un'ortodossia moderna, può essere chiamata un'ortodossia estremamente aperta alla modernità, che è tipica del mondo ebraico italiano, ma che comunque rifiuta nettamente le trasformazioni che invece hanno caratterizzato il mondo riformato e conservativo americano. E questo ci riporta a un'altra questione importante che sembra tocchi direttamente anche la questione della sinodalità nel mondo cattolico, che è quella del ruolo delle donne, il ruolo dell'altra metà del cielo in questa cosa. La Chiesa lo sta affrontando, ho visto che nello scorso mese, per la prima volta, una donna ha avuto in un sinodo la possibilità di esprimere un voto. Non so, purtroppo non ho potuto seguire i vostri lavori precedenti, non so come questo viene collocato, mi limito semplicemente. Nel mondo ebraico riformato, le donne accedono al rabbinato, partecipano alla preghiera pubblica, leggono la Torah in pubblico. Cosa succede invece nel mondo ortodosso e ultraortodosso. Il problema vero per il mondo ebraico non è il problema dell'accesso al rabbinato. Il rabbinato, come abbiamo visto, è un'istituzione tarda, il XIII-XIV secolo è tarda nel mondo rabbinico, non ha legami né biblici né talmudici, e comunque questa istituzione, la Semika, è un'istituzione che quindi in qualche modo è sovrapposta e fa parte della storia, diciamo. Mentre invece la preghiera pubblica ha radici profonde, interne al mondo ebraico, nella Bibbia e nel talmud. Ora, quello che effettivamente mette le donne nel mondo ortodosso, ancora più nel mondo ortodosso, fuori dalla vita religiosa, è il rifiuto di far loro parte del Minian. cos'è il Minian? Il Minian è quel numero di dieci uomini adulti che hanno superato la maggiorità religiosa, quindi tredici anni, che possono partecipare, contano nella preghiera pubblica. La preghiera pubblica non può svolgersi in pubblico, in sinagoga, ma ovunque, perché la sinagoga non è uno spazio sacro, è uno spazio caratterizzato appunto dal Minian e dalla presenza dei rotoli della Torah. La preghiera pubblica può svolgere solo in presenza di dieci uomini, puoi avere una donna e nove uomini, anche se è fornita di tutte le caratteristiche per guidare, per partecipare alla preghiera pubblica, la preghiera pubblica non è valida, non diventa preghiera pubblica. Ora, voi capite immediatamente che questa è una cosa molto più forte della partecipazione o meno al rabbinato, è una cosa che determina una spaccatura fra gli uomini e le donne nel mondo ortodosso, oltre-ortodosso, più connaturata all'ebraismo, diciamo, più interna, più legata alle origini dell'ebraismo di quanto non sia la partecipazione al rabbinato. Ed ieri, una notizia che ho visto stamattina è che mi ha spinto a chiudere questa mia breve relazione molto descrittiva e non riflessiva con questo tema, di che, come sapete, al cosiddetto Muro del Pianto, al Kotel, a Gerusalemme, c'è una parte maschile e una parte femminile, rigorosamente separate. Nel XIII è cominciata da parte di donne, in particolare che provenivano dal mondo ebraico americano, ma non solo, perché c'era anche una parte di ortodosse fra loro, è cominciata un tentativo di ottenere uno spazio riservato sia agli uomini che alle donne, uno spazio misto, in cui le donne potessero leggere la Torah e mettersi il taled della preghiera sulle spalle, la kippah sulla testa, e partecipare alla preghiera pubblica in funzione di dirigere la preghiera pubblica. Ecco, cosa che non è mai successa nel corso del Medioevo. Abbiamo delle donne che partecipano alla preghiera pubblica nella sinagoga, ma sono in una stanza separata e sostanzialmente ripetono quello che dice il rabbino nell'aula sinagogale. Invece questo adesso, al Kotel, era stato. Ci sono state tutta una serie di discussioni di furibonde con scontri, soprattutto con gli ultraortodossi, sembrava che la questione fosse risolta, nel senso che si era creato questo spazio ieri e di nuovo è stato impedito alle donne, in parte anche ortodosse, non soltanto riformate, di accedere con i rotoli della Torah al Kotel nella parte loro riservata, non solo, ma sono stati strappati i rotoli della Torah nella colludazione. A me sembra questa una cosa da una parte grave per chi nel mondo ebraico sostenga un accesso alla modernità e pensi che l'ortodossia non debba essere l'unica forma di religione, ma è anche qualche cosa estremamente significativo, significativo di un percorso che è un percorso che passa ancora una volta attraverso la preghiera, attraverso una sfera religiosa. Come mai la sfera religiosa in una società che pure problemi ne ha? Non tanti, perché è una società estremamente avanzata, parla di Israele, ma anche nel mondo ebraico l'accesso comunque alla società esterna è talmente ampio da non creare problemi nell'ambito della società civile, i problemi sono ormai ristretti al mondo religioso e al religio, i problemi rispetto alle donne. Ecco, però è anche quella delle donne uno dei canali, forse è il canale principale di accesso alla modernità. Ecco, stamattina leggendo la notizia di questo evento che di nuovo ieri, in occasione della preghiera del venerdì sera, Al Kotel è emerso, mi sono domandata quanto difficile sia adeguare la sfera religiosa, quanto in fondo sarebbe più facile la creazione come nel mondo riformato e o conservative di rabbini donne o comunque di figure in qualche modo intermediarie con il rabbinato, sto pensando ai cattolici in questo momento, in realtà, ma non invece incidere profondamente sulla struttura della preghiera che forse è la struttura religiosa per eccellenza. Qui mi fermo perché non sono competente oltre. Grazie. 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 Grazie.